La dia vendata ha scelto di baciare Monte Fiascone in provincia di Viterbo nella tabaccheria gestita dal giovane Fabrizio Pappalardo uno sconosciuto con un gratte vinci miliardario mega da appena 10 euro si è portato a casa un monte premi da ben 2 milioni ovviamente bocche cucite sull'identità del fortunato vincitore di cui non si sa nemmeno se è residente nel comune o se si tratta di una persona di passaggio mi sono trasferito qui da poco ha spiegato il proprietario della tabaccheria e questa vincita è stata una bella sorpresa sono contento non solo perché un cliente ha vinto ma anche perché ho saputo che si tratta di una delle più grosse vincite mai registrate nella Tuscia ieri tutte le persone che entravano nella tabaccheria potevano festeggiare la vincita con panettone spumante offerti da Pappalardo